di tirarti che volta che volta che volta che volta che volta che volta spostiamoci l'ingresso dei box andiamo a vedere insieme la classifica finale del secondo turno di qualifica della moto 2 il collegamento si chiude qui non ci resta che darvi appunto spostiamoci subito sulla griglia di partenza manca pochissimo all'inizio della gara e la tensione è alle stelle è una bella giornata anche se le temperature sono particolarmente alte i piloti avranno a che fare con un consumo gomme più qui a Sachsen è tutto pronto per l'inizio della gara concentrazioni al massimo su questa pista è fondamentale non perdere posizioni in partenza attenzione dietro all'esterno in fila benissimo bello questo duello all'esterno che resiste grandissimi grandissimo duello all'esterno ne approfittano porca miseria addosso adesso ancora 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 fuori a cannone fuori a cannone qua in fondo bravo bravo fermala bravo fermala lungo 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 un po' lungo un po' lungo vengono su insieme lo sta rallentando mamma mia ancora in un'altra staccata questa posizione del podio vietato fumare a momenti si prendono si infina ma non è ancora qua di nuovo è subito è ancora qua di nuovo mi è ancora qua mi è ancora qua la mia è più di nuovo che cosa è più mi è 谁 non è ma va Grazie. 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 In attesa che la regia ci porti al parco chiuso per incontrare i protagonisti di oggi, diamo un rapido sguardo alla classifica.